Buongiorno, buongiorno Cagazzi Viola, buongiorno Cagazzi, buongiorno Fratelli Viola. Allora vi invito ad iscrivervi al canale, mi raccomando, a far iscrivere tutti i tifosi della Fiorentina che conoscete. Condividete presso di loro il canale e invitateli ad iscriversi. Vi invito ad attivare il campanaccio, ma soprattutto faccio una premessa importante. Venerdì sera alla Sebastian Frey Maniera sarò ospite della pagina Instagram Viola Pressis dalle ore 21 venerdì sera per fare una live assieme per rispondere agli utenti, per rispondere ai tifosi su tutto quello che riguarda la Fiorentina, vita, calciomercato, scelte e tutto quanto su Instagram Viola Pressis. Potete seguire me su Instagram AlessandroCatto91 e seguite anche Viola Pressis. Tra l'altro non so se per chi mi segue ma non segue Viola Pressis vede l'icona della live in alto, me lo spiegherete voi chi è che vede la diretta, se basta iscriversi ad un profilo. Comunque vi invito ovviamente ad iscriversi sia ad AlessandroCatto91 su Instagram che a Viola Pressis venerdì sera ore 21 live. Allora oggi faccio un punto su questo video, facciamo un po' un punto sulle notizie di calciomercato che in questi giorni si susseguono nell'ambito fiorentina. Io in realtà come vi ho già detto in un video precedente credo personalmente che più che ai giocatori bisognasse dare un po' di più attenzione a possibili scelte progettuali societarie, detto in maniera semplice a decidere pensandoci bene se confermare questo assetto societario, quindi DS, amministratore delegato e allenatore. Io sarei per fare scelte diverse però sembra che siano stati praticamente tutti confermati da Barone a Pradea e Iachini e sembra che si vada avanti con questo organigramma qui. Io però voglio lanciarvi diciamo in questo video un gioco a jouet, diciamo un gioco della primavera estate quarantenata 2020. Ok vi do i tre nomi di amministratore delegato che avrei scelto io, i tre nomi di DS che avrei scelto io e i tre nomi di allenatori che avrei scelto io, ovviamente quelli papabili, vi invito a sceglierne uno per categoria, quindi l'amministratore delegato che avreste scelto voi, il direttore sportivo che avreste scelto voi e l'allenatore che avreste scelto voi tra questi tre per categoria che vi dico e vediamo quali sono le migliori composizioni della Fiorentina, quale composizione floreale avreste fatto voi seguendo i miei dettami per la viola. Facciamo questo gioco, diciamo fine a se stesso, inutile perché alla fine rimarranno e saranno confermati tutti, speriamo anche che se così sarà faranno bene, perché siamo, che facciano bene, perché siamo tifosi della Fiorentina, quindi ci auguriamo che facciano bene, però siccome io devo dire, visto che ho un canale per dire quello che penso, devo dire quello che penso e dico che avrei pensato ad una sistemazione diversa della società, avrei cambiato, ripeto, amministratore delegato di essere allenatore, avrei dato un progetto chiaro con degli step precisi cambiandone i protagonisti, però vediamo quale sarà la scelta, quale sarà, diciamo, il percorso della Fiorentina confermando tutti come sembra che poi accada. Vi dico i tre nomi per categoria, ripeto, ne dovete scegliere uno per ogni categoria e dire il vostro AD, il vostro DS, il vostro allenatore. Vediamo che composizioni vengono fuori nei commenti, mi raccomando, scrivetele tutti numerosi. Allora, per il ruolo di amministratore delegato io vi do queste tre opzioni, Braida, Gandini o Baldini. Uno di questi tre poteva essere il nostro nuovo amministratore delegato, con Barone, che rimaneva in società ma che avrei lasciato dedicarsi, diciamo, esclusivamente alla questione stadio con un altro ruolo, dove può essere abile, dove può essere fruttuoso, dove può portare avanti un ottimo lavoro, ma siccome ci serve un uomo per, diciamo, introdursi nei gangli del calcio italiano, scegliete uno tra questi tre. Vi ripeto, Braida, Gandini, Baldini. Per il ruolo di direttore sportivo avrei scelto uno tra questi tre. Paolo Maldini, Ausilio o D'Amico del Verona. Scegliete uno tra questi tre. Come allenatore, come ben sapete, uno tra Sarri, Juric e Gotti, ok? Fate la vostra composizione, scrivetela nei commenti, vediamo cosa viene fuori, e però, diciamo, credo al 99,9% che resterà un qualcosa tra di noi, perché, ripeto, la Fiorentina andrà avanti con le persone che l'hanno composta fino ad oggi, fino a ieri, insomma, e quindi non se ne farà niente. Va bene, veniamo alle notizie di calciomercato, perché ce ne sono di diverse, di succose. Ieri Barone ha detto che ha in testa un giocatore, un top player addirittura, che sta cercando, assieme a Pradè, di portare a Firenze. Vediamo chi sia. Io ho un po' provato a vedere tra i commenti dei tifosi su fiorentina.it. C'è chi dice Paquetà, c'è chi dice Belotti. Insomma, queste due sono le opzioni più inflazionate tra i tifosi. Top player è un termine molto ampio. Bisogna vedere cosa si intende per top player. Lascierei stare queste dichiarazioni e vediamo cosa viene fuori. Andiamo su voci un po' più specifiche. Negli scorsi giorni c'è chi ha rilanciato l'ipotesi di poter vedere a Firenze sia De Paul che Paquetà. Cioè, comprare tutti e due. Allora, qui bisogna vedere come si mette la questione fair play, perché io non ho capito se il fair play è sospeso, se sarà sospeso, se continuerà, se ci sarà ancora. Lì bisogna vedere se il fair play sarà sospeso totalmente, ovvio che commisso, se gli gira il pallino, può anche mettere 400 milioni di euro sul tavolo e ti compri chi vuoi. Dubito però che questo sarà l'andazio e che il fair play venga annullato, che si allentino le corde in maniera così totalitaria. Magari verrà allentato per qualche voce, similmente a come succede con la politica, ma non so se sarà un mercato, diciamo, in cui tutti possono spendere quello che vogliono in base alla mera disponibilità economica del presidente, perché il fair play non è una cosa che metti, togli, metti, togli, così, a seconda di come ti svegli, capito? Quindi, stante la situazione attuale, se dovesse continuare questa situazione qui, la vedo dura che tutti e due possano venire a Firenze. Trovo più probabile che ne arrivi solo uno, cioè uno tra De Paul e Paquetà. In particolare, trovo più facile che arrivi Paquetà. Sono comunque due giocatori che non mi dispiacciono. Paquetà probabilmente avrebbe più un'ottica al futuro e alla plusvalenza, mentre De Paul sarebbe qualcuno che ti può dare di più nell'immediato, qualcosa di più solido, di più esperto. Lì va un po' ai gusti, insomma. Io, ripeto, credo che sarà già difficile arrivare a uno solo dei due. Tra l'altro i costi sono simili, ma sono due profili molto onerosi. Oltretutto, ieri anche il giocatore del Milan ha detto che lui si vede a Milano e spera di rimanerci per tanto tempo. De Paul è titolare, credo, ormai nell'Argentina. Ha richieste anche importanti da altre squadre. Non credo sia molto facile. Vediamo cosa succede. Non avrebbe neanche senso farli arrivare tutti e due, perché abbiamo Jam, Rabat e Castrovilli. Dovresti giocare con che schema? Con un 3-6-1, praticamente. O con un 4-2-3-1, con uno dei quattro sacrificato sull'esterno. Ma, onestamente, non ce lo vedo. Penso che, ripeto, è già tanto se ne arriva uno dei due e non avrebbe senso farli arrivare tutti e due, vi ripeto. Vediamo anche altre questioni, oltre a quella di De Paul e Paquetà. La questione Castrovilli e Vlaovic. Allora, io l'ho già detto. Lo ripeto qui per l'ennesima volta, perché sento spesso sentire nomi tipo Vlaovic e Castrovilli legati all'Inter, cessioni... Allora, cedere Castrovilli e Vlaovic, o anche uno solo tra Castrovilli e Vlaovic, mi metto nell'ottica di una società venditrice. Cioè, sarebbe una stupidaggine enorme per la Fiorentina cedere uno tra Vlaovic e Castrovilli quest'estate. Perché, ammesso e non concesso, ma un po' lo fanno tutte le società, quindi anche ammesso che tu ragioni nell'ottica di prima o poi volerli vendere o vendere uno dei due per fare una plusvalenza, non ha senso venderli quest'estate, perché sono due giocatori che hanno giocato poco in Serie A, poco alla Fiorentina, che non hanno ancora fatto vedere totalmente i loro margini di miglioramento, che hanno bisogno di giocare in una squadra come la Fiorentina, che almeno per un altro anno li metta nella condizione, se non di esplodere totalmente, ma di fare un po' come hanno fatto i vari Chiesa, Bernardeschi, Jovetic, cioè di avere una stabilità e di capire che tipo di profili sono. Oggi sono giocatori che rischi di vendere sotto costo e assolutamente in fretta, quindi vi dico, mi ci gioco un marrone che non vengono ceduti. Proprio stavolta voglio stare dalla parte delle dichiarazioni di commisso di Barone e di Pradè, proprio perché cedere anche solo uno di sti due sarebbe un'operazione incomprensibile, antilogica, perché se li vuoi cedere, tutto ti fa dire, va bene, ma aspetta un altro anno, perché di sicuro si valorizzeranno, capito, essendo giovani, avendo più esperienza. Quindi io credo che assolutamente Castrovilla e Brauic non andranno via. Diverso il discorso di Chiesa, ma perché è un giocatore che è con noi da diverso tempo e la sua esperienza diciamo in viola l'ha anche maturata forse anche fin troppo. Veniamo a Milenkovic, che è un po' una nota dolente, perché si parla di un possibile interessamento del Napoli per Milenkovic che avrebbe offerto 30 milioni. Allora io sono innamorato di Milenkovic, è un giocatore che mi piace tantissimo. Io Nicolino lo farei capitano, cioè io voglio proprio bene a Nicolino, un giocatore che è proprio il mio giocatore ideale, è serio, sta per i cazzi suoi, tranquillo, muso duro, baretta, fraccada, tignoso, disciplina balcanica. Io lo farei capitano. Quindi vederlo andare via veramente mi spiacerebbe tanto. Lì dipende, se il giocatore vuole restare farei di tutto per confermarlo e lo farei anche capitano onestamente. Se invece il giocatore vuole andare via perché ha offerte importanti o vuole provare un nuovo abbrivio è lì, tocca sedersi a un tavolo e vedere cosa fare. 30 milioni, se è vera sta voce di una prima offerta, come prima offerta non è malaccio, cioè significa che si capisce che il giocatore ha delle grandi potenzialità e qualità e secondo me le ha perché come difensore mi piace tantissimo, può andar bene nella difesa a tre, nella difesa a quattro, può fare anche il terzino destro, può fare il centrale. È un giocatore validissimo e vi dico di più, se sei una società brava che deve venderlo o che vuole venderlo puoi anche avvicinarti a una bella quarantina di milioni secondo me perché profili del genere di questa età, con questa maturità, con questa forza, con questa consapevolezza non ce ne sono tanti. Quindi su Milenkovic io spero resti, spero possa restare perché mi piace tantissimo, lo farei addirittura capitano, se lo devi cedere, vi ripeto, puoi anche alzare le pretese, però spero resti. Un'altra voce un po' che spero sia fasulla perché mi ha fatto un po', mi ha fatto venire un soffio al cuore, è quella che nella trattativa per Pacchettà addirittura ci sia l'ipotesi di inserire l'Irola. Non ci credevo tanto, diciamo, al discorso, perché? Perché sarebbe anche questo un errore clamoroso. L'Irola è un altro giocatore che mi piace, che confermerei alla grande, che in un 3-5-2 ci sta benissimo e vi dico anche di più, astraendomi in attimo dalla dimensione di tifoso della Fiorentina, se dovesse analizzare un Milan con un 3-5-2, con Hernandez a sinistra e l'Irola a destra, sto duo spagnolo, cioè mi fomenta anche a me, mi fomenta, cioè sarebbe ideale l'Irola per un Milan di questo tipo, però non possiamo cedere l'Irola soprattutto inserendolo in una trattativa per pacchettà, per me assolutamente no, se si ha idea di fare sta cosa rischia di essere un grave errore. L'Irola va confermato, l'Irola ha ampi margini di crescita, esterni bravi a tutta fascia non se ne trovano tanti, l'abbiamo preso l'anno scorso, quindi non credo, non voglio credere che venga ceduto. discorso Biraghi Dalbert, io vi ho detto la mia e lo ripeto perché sento anche diversi interisti che chiedono ma come va a finire, come va, non si sa, mia idea personale, io penso che alla fine io non sarei d'accordo perché al posto di Dalbert come sapete andrei su un alto profilo, su tutti Riccardo Rodriguez, però diciamo che a mio avviso alla fine si troverà un accordo, nel senso che Biraghi rimarrà all'Inter e Dalbert resterà alla Fiorentina, penso che alla fine potrà andare così, mia personale idea e mia personale sensibilità. Vediamo se devo dirvi qualcos'altro, no, mi pare di avervi detto tutto, su Belotti si parla, io vi ripeto a me non piace, non mi entusiasma, credo sia un pelo sopravvalutato, non andrei a comprarlo ma anzi confermerei l'attacco titolare Cutrone-Evraovic e darei in grande considerazione Sottil perché mi piace un sacco e questo vi ho detto su quello che c'è da sapere di calciomercato. Ditemi la vostra, fate il gioco a gioere nei commenti, un bacione.